Buongiorno a tutti, oggi vorrei mostrare il mio progetto sull'automazione industriale e l'esempio elettrico di un processo di automazione che potrebbe essere richiesto da una company making raw cylinders, 5 asynchronous AC motori, uno di cui sono disponibili per essere usati per il progetto. Il progetto è rispetto a essere indipendente di un'azione umana dopo presso il pulsante. Un sistema adeguato di signal è necessario per che il stato di automazione sia visibile e controllabile a ogni momento all'interno del processo. Un sistema di sensori e di meccaniche controlli e regolano i passaggi di lavoro dell'interno del processo. Un botto di emergenza è necessario per stoppare i prodotti di potenza in caso di danger. Il prodotto di potenza prevede 3 fasi di 230 volt. Ora, faccio posizionare il cilindro sul conveyoro. Dopo controllare il stato della macchina e assicurare che tutto è un'altra cosa, faccio presso il botto di start. Il posto è avvenuto avanti. Il primo senso stoppa il motore del conveyoro e il primo passaggio di lavoro comincia e dura per alcuni secondi. La stessa procedura è ripetata 3 fasi più volte. All'inizio del conveyoro un meccanico hand switch stoppa il movimento direttamente e reversa la direzione. L'altro hand switch ferma l'interno del processo. L'utilizzo prende il lavoro di piaccia e la manuarezza è necessario per restare l'automazione. in questo modo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.